Da sempre il Dipartimento di Prevenzione coordina queste attività vaccinali sul territorio. La campagna vaccinale anti-influenzale 2024-2025 è entrata nel vivo e in questo contesto il ruolo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta è fondamentale. L'ASL, Napoli e Nord ha compreso l'importanza di un coinvolgimento attivo di questi professionisti e ha messo in campo una serie di iniziative per supportarli al meglio, con un sostegno logistico efficiente ma anche con una formazione continua, elementi chiave per il successo della campagna vaccinale. La nostra ASL sta continuando sulla scia dell'organizzazione che da sempre ci siamo dati perché uno degli aspetti fondamentali è appunto l'integrazione dell'attività dell'azienda con quella del personale convenzionato. Da sempre il Dipartimento di Prevenzione coordina queste attività vaccinali sul territorio grazie alle sue professionalità e alla sua esperienza. Oggi ci incontriamo, è un momento formativo importante in cui mettiamo a punto le ultime strategie per questi ultimi due mesi di campagna vaccinale e quindi ci sarà l'incontro tra il Dipartimento di Prevenzione, i medici di medicina generale e i pediatri per valutare alcune criticità che si possono trovare lungo il cammino. L'incontro formativo ha affrontato temi cruciali come le novità normative, i benefici della vaccinazione, le categorie più a rischio e le modalità di somministrazione del vaccino. La popolazione target per il vaccino antinfluenzale è appunto la popolazione anziana al di sopra dei 65 anni e tutti i pazienti al di sotto dei 65 anni affetti da patologie croniche a rischio. È importante vaccinare anche per lo premococco, la vaccinazione antipremococica invece non è stagionale, questa è una cosa che dobbiamo dire ai nostri pazienti e ai nostri assistiti. Il vaccino antipremococico si può fare anche al di là della stagione invernale. Grazie a questa sinergia tra ASL e medici di medicina generale si vuole raggiungere un duplice obiettivo, aumentare l'adesione alla campagna vaccinale e garantire un accesso più facile e capillare alla vaccinazione antinfluenzale. Grazie a tutti.